Il sapore del passato per me è il sapore dei piselli che cucinava mia madre quando ero piccola, che tornavo dal collegio e finalmente ero a casa e lei per farmi sentire ancora più amata mi preparava questo piatto di piselli, un piatto molto semplice, molto genuino, che però a me ricorda delle grandissime belle emozioni del ritorno a casa, tra l'armonia di casa, il calore della mia famiglia, l'affetto della mia famiglia e ancora adesso quando mangio i piselli mi si ripropongono queste bellissime emozioni.